Allora noi ci colleghiamo qui a Roma, andiamo a Roma in via di conciliazione e per noi c'è Luigi Ferraiolo. Luigi, con te vedo un ospite, raccontaci tutto. Buonasera Caterina, sì, come hai detto siamo a via della conciliazione a San Pietro e l'atmosfera, lo potete vedere alla mia spalla, è spettrale. Ci sono le forze di polizia, l'esercito che fanno i controlli nelle poche macchine rarissime che passano, ma via della conciliazione e anche tutta piazza San Pietro è completamente vuota, un'atmosfera da non credersi perché siamo a quattro giorni dalla primavera, in altri tempi sarebbe stato ben altro il passeggio e invece è il vuoto assoluto, il deserto. In qualche modo però significa che i romani e gli italiani stanno rispondendo bene all'invito del governo, all'invito delle istituzioni a rimanere a casa. Ieri ci sono state, come stavi dicendo, ben 8.000 denunce di persone che hanno trasgredito all'interno di 170.000 controlli effettuati da tutte le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, carabinieri della forestale, su tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo qui con noi il vicequestore Moreno Fernandez, che è il dirigente del commissariato Borgo, il commissariato che ha competenza su piazza San Pietro, la zona del Vaticano. Vogliamo chiedergli non tanto i numeri, ma come la polizia sta cercando di aiutare gli italiani a rimanere a casa? Essenzialmente con l'attività preventiva, con una presenza capillare sul territorio. Abbiamo raddoppiato gli sforzi, abbiamo raddoppiato le nostre pattuglie. Con questa attività cerchiamo di sensibilizzare, stimolare il senso di responsabilità dei cittadini e favorire anche una corretta informazione sugli obblighi di permanenza in casa. Devo dire che i cittadini romani stanno rispondendo bene a queste sollecitazioni. Si comportano bene, quindi che cosa vorrebbero? No, si comportano bene perché rispettano in linea di massima tutte quelle che sono le limitazioni alla loro circolazione. Solamente in casi estremi siamo costretti a procedere nei loro confronti quando non c'è assolutamente nessun tipo di giustificazione per la loro presenza sul territorio. Qual è il caso limite che vi è capitato? C'è qualcuno che ama passeggiare oppure ritrovarsi nella panchina secondo quelle che erano le abitudini tradizionali oppure bere una birra in compagnia con qualche amico. Nei primi giorni dei divieti abbiamo registrato queste situazioni così abnormi ma successivamente devo dire che c'è un generale rispetto delle disposizioni che vanno anche al di là del precetto normativo. Quindi un grande senso di responsabilità da parte dei cittadini romani. È cambiato anche il modello per l'autocertificazione. Io voglio spiegare anche ai telespettatori che siamo così a distanza proprio per rispettare anche noi le norme che sono state fissate a tutela della salute pubblica. La nuova autocertificazione in cosa è cambiata? Sì, essenzialmente in un punto molto importante perché nell'autocertificazione si autodichiara anche di non essere in nessuna delle condizioni previste per di assoluto divieto di uscita dall'abitazione. In buona sostanza si dichiara di non essere in situazione di quarantena né di essere risultati positivi al coronavirus. Qual è l'invito che dobbiamo fare agli italiani allora? Rimanete a casa, rispettate le disposizioni che sono state adottate dal governo e cerchiamo di avere grande senso di responsabilità in questo momento. Tutti uniti usciremo da questa situazione. Grazie, dottore Fernandez. Se non hai altre domande, Caterina, la linea ritorna allo studio. Grazie mille Luigi, grazie anche al vicequestore. Buon lavoro a entrambi. Rientriamo.